Siamo arrivati ad un momento molto importante nel nostro progetto, nel nostro concerto, cioè alla presentazione dei nostri musicisti, ai quali vorrete tributare cada uno un grande applauso perché lo meritano veramente. Iniziamo con applausi, con Mariangela Patrone, Sandra Cirio, Susanna Bobbio, Luisa Portello e Marta Chiamara. Ed ora la sezione dei clarinetti con il professore Gabriele Poi, Luca Giulio, Filmea Ballas, Cristina Coirole, Marco Volina e Massimo Conti. Maria Grazia Petrosanta, Valper Pignone, Viaggio Colucci, Mario Pairone, Francesco Botta, e il professore Lino Camaglioni, Massimo D'Arritimo Paolo Diego. Passiamo alle tombe, Pietro Cibadeschi, Thomas Petrosi, Pietro Orti, Simone Quaglia, il professore Giulio D'Arritimo Bertolini, il professore Giulio Tortello, il professore Giulio Tortello, il professore Gian Ponteo, il professore Gian Ponteo, Gian Ponteo Tortona, Alcicardo Baritolo, Lorenzo Tornato, Luca Migliano, e il professore Giorgio Morcello Tornato, al basso Tuba, il professore Massimo Barenco, al basso elettrico Matteo Tornato, terminiamo con il gruppo delle percussioni, con Giuseppe Chieco, Paolo Biglia, Giorgio Paglia, Fabio Poggio, e l'altra professoressa Sara Malbrone. Vi ho appena presentato il nostro corpo banditico castellente Francesco Solia, ma mancano altri due mesi, chi manca? I due maestri, due colonne portanti, Stefano Odone e Giulio Tortello. Grazie. 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 Grazie.